Il prossimo incontro romano sulla vertenza dello stabilimento Ofitano è stato programmato per il 9 maggio. Al momento è stato comunicato che si tratterà di una ristretta nazionale con il governo e i vertici Fiat. Nel frattempo Cigel, Cisle e Will confermano la manifestazione provinciale del 1 maggio a Grotta Minarda, luogo diventato simbolo della vertenza erpina. Si punterà l'attenzione su tutte le questioni del lavoro aperte in provincia. Un primo maggio di feste, di mobilitazione, di lotta e di speranze, di prospettive positive per il futuro, per risolvere le problematiche della crisi, della produzione e dell'occupazione. Obiettivo immediato, la concretizzazione delle iniziative istituzionali e delle parti sociali al tavolo per lo sviluppo e il lavoro, con la stipula di protocolli d'intesa con la Regione Campania sulle priorità individuate dal territorio, con la conferma della stazione erpina dell'alta capacità e della progettazione per fornire della banda larga le aree industriali, i nuclei preesistenti e le città capoluogo. Sarà rilanciata la necessità di intervenire immediatamente sulle procedure per l'accelerazione della spesa pubblica, per il completamento delle infrastrutture primarie e per l'amoramento del territorio. I lavoratori dei settori in crisi saranno presenti all'iniziativa unitaria, che a partire dalle ore 9.30 da Piazza San Pio si muoverà con il corteo di lavoratori, cittadini e pensionati guidati dai segretari provinciali Petruziello, Melchion e Franco De Feo, e attraverserà le strade principali della cittadina erpina per concludersi con il comizio a più voci. Gli interventi della giornata saranno affidati all'RSU della Irisbus e a un rappresentante dei lavoratori forestali. Parteciperà anche il segretario generale regionale della UIL, Anna Rea, a testimonianza dell'attenzione del sindacato unitario campano Cigel Cisl-UIL per i problemi del territorio e per dare sostegno alla vertenza erpina, già corposamente manifestato al convegno unitario dello scorso 30 marzo. L'invito ovviamente è rivolto ad un'ampia partecipazione di tutti i lavoratori irpini per i rappresentanti della politica e delle istituzioni, degli enti locali e del mondo della produzione.